E' stata inaugurata ieri mattina Pit Bat 3, la spiaggia libera comunale attrezzata per persone diversamente abili, quindi priva di qualsiasi barriera architettonica ed accessibile al 100%. Il progetto, nato dalla collaborazione fra la consulta per i problemi dei disabili e la protezione civile, è dotata di passerella per l'accesso al mare, sedie job, due bagni e doccia per disabili. Le associazioni di primo soccorso, inoltre, hanno garantito la presenza di personale infermeristico dotato di defibrillatore per ogni giorno a partire dal 1 luglio fino al 31 agosto.